Sabato 26 novembre si ritroveranno tutti in piazza Sant'Anna a Teramo, gli edili teramani, per lottare insieme e chiedere lavoro. La denuncia della CGL Teramo è netta. Dall'inizio della crisi il settore ha perso 14.000 addetti. La ricostruzione extra cratere post terremoto 2009 non è mai iniziata ed ora viene annunciato con il masterplan un miliardo e mezzo di euro per l'Abruzzo, di cui 200 milioni solo per la provincia di Teramo. E questo dovrebbe dare lavoro a 6.000 addili. Sì, ma quando si comincia? Intanto molti dei progetti e dei finanziamenti che dovevano in qualche modo permettere l'avvio dei cantieri non sono partiti ancora. E ce n'è un esempio per tutti, ne abbiamo visto. Nella provincia di Teramo ne erano previste 28 interventi per la riqualificazione di una parte delle scuole per un totale di oltre 18 milioni di finanziamento. Bene, a distanza di 7 anni e purtroppo è arrivato un altro terremoto con la tragedia che stiamo misurando in questi giorni. Bene, solo un progetto è stato concluso, 3 hanno i cantieri aperti e tutti gli altri 24 sono ancora nella fase di progettazione. La manifestazione che si svolgerà sabato prossimo a Teramo, organizzata dalla Fillea di Teramo e Abruzzo, dalla CGL di Teramo e dalla Fillea Nazionale, vuole essere in sintesi uno sciopero alla rovescia per chiedere la rapida apertura dei cantieri di Teramo e in special modo quello dell'ex manicomio di Porta Melatina e l'avvio della ricostruzione post-terremoto. In poche parole, lavoro. Ma insomma, il terremoto è un'opportunità, questo del 2016 lo potrebbe essere per Teramo e anche per tutto il settore edilizio? Ma intanto il terremoto è sempre una disgrazia, perché quando arriva colpisce l'identità di un territorio. In questo caso possiamo dire che il terremoto del centro Italia ha colpito le attività turistiche, ha colpito le attività agricole e di allevamento. Noi abbiamo la necessità assoluta che la ricostruzione post-terremoto cambi passo, che non possa avere lo stesso passo del terremoto del 2009. Abbiamo scelto il Sant'Antonio come emblema, 32.400 metri quadri. Parliamo di rigenerazione urbana, parliamo quindi di un recupero, di un complesso importante per la città di Teramo che vive una crisi di identità spaventosa. Per noi pensiamo che oltre a essere lavoro edile è anche un'opportunità di ripresa e di rilancio della città di Teramo.